Domenica a Roma inizia la mostra di Terankez. Chi? Terankez. Surrealista, d'avanguardia, pioniere del post-cubismo astratto. Deve essere nella scuola madrilena, sai. Domenica a Roma ce l'ha partita. Ah, ma certo, Terankez. Prenoto due posti in tribuna centrale. Settore ospiti. No. Volevo dire, sul Frecciarossa delle 9.15. E con la promo M&U c'è anche uno sconto fino al 50%. Davvero? Sì. E arriviamo prima del fischio d'inizio. Dell'inaugurazione, volevo dire.